Spero che l'abbiate detto a madame Olenska. Cosa? Che siamo fidanzati. Libertà è il trionfo sulle convenzioni. Dicono che il conte la tenesse praticamente segregata. Perché seppellire viva una donna se suo marito preferisce delle prostitute? Credete che una donna debba avere la stessa libertà degli uomini? C'è qualcun'altra forse? Io credo che dovremmo guardare la realtà e non insieme. Io voglio soltanto che stiamo insieme. Non posso essere tua moglie, Newland. Pensi che dovrei vivere con te come tua amante? Il capolavoro romantico di Martin Scorsese. Vincitore di un Oscar, pluripremiato da pubblico e critica. L'età dell'innocenza. Venerdì alle 21.15 sulla 7.